Le risorse che già ci sono, quei 500 milioni di Euro che ha dato Renzi non si possono vincolare a dei piani di sviluppo del mezzogiorno, i soldi che già la Sicilia prende molto di più di quanto versa allo Stato nazionale, molto di più, non si possono perlomeno quelle risorse cercare di utilizzarle per lo sviluppo del mezzogiorno, oppure se la soluzione è quella, continuiamo a mandare soldi a caso, guardate che non ci guadagneranno sicuramente i cittadini a mezzogiorno, ci guadagneranno qualcuno che con quei soldi ci ha fatto affari, tiene bloccato magari le grandi opere perché continua a fare varianti e magari c'è qualche azienda amica che si mette dentro a questo business, continuerà ad andare avanti cara di mineo con persone che ci guadagnano dal business dell'immigrazione clandestina e con questo garantiscono di assumere qualche amico dell'amico dentro una cooperativa, dentro l'associazione è così da farsi il pacchetto di voti, questa è la situazione che continuerà, noi chiediamo un vero cambiamento del mezzogiorno prima di tutto per i cittadini del mezzogiorno.